5 gol, 3 punti ritrovati e gli applausi del Degli Olivi. La Fidelisandria sul Velluto regola lo spauracchio Santa Maria Cilento e si riporta a ridosso delle prime della classe. Mister Farina conferma il 4-3-1-2 con fratti tra i pali e la coppia Donida-Telera al centro della difesa. In attacco spazzo al tandem Burzio-Scaringella con Strambelli ad agire sulla tre quarti. Ferullo sul fronte opposto opta per un 3-4-3. Pronti via e Strambelli cerca subito il colpo a sorpresa direttamente da centrocampo. Palla che si spegne sul fondo. La Fidelis non stacca il piede dall'acceleratore e tre minuti più tardi è il calcio di punizione di Strambelli da posizione defilata a sporcare i guantoni di Cannizzaro. Al tredicesimo Biancazzurri ha centimetri dal vantaggio. Cross dalla sinistra di Padalino per la testa di Scaringella. Il suo colpo di testa però sbatte contro il palo. Vantaggio che si materializza al ventitresimo. Lancio dalla destra di Strambelli per Burzio che apparecchia per Bottalico a rimorchio. Il numero 11 non ci pensa due volte e col mancino trafigge Cannizzaro per l'1-0. Santa Maria Cilento che fatica a trovare il bandolo della Matassa. E al trentottesimo puntuale ecco il raddoppio Biancazzurro. Strambelli dal limite in buca per Burzio. Bravo a servire Sassanelli che all'altezza del dischetto deve solo mettere l'ombrellino nel long drink per il 2-0. Andrea che mette in ghiaccio la partita in pieno recupero. Fendente di Strambelli dal limite che buca Cannizzaro per il 3-0 che manda le squadre negli spogliatoi. Il Santa Maria Cilento punta la sveglia a inizio ripresa. Fratti in ogni caso risponde presente sull'incornata di Ferrigno. Al sessantatresimo i biancazzurri calano il poker. Bottalico dalla distanza pesca il coniglio dal cilindro per la sua doppietta personale. Gara abbondantemente chiusa ma la Fidelis si mostra famelica. E al sessantanovesimo è Scaringella ben imbeccato da Strambelli a firmare il 5-0 che chiude definitivamente i giochi. Tre punti importanti per la squadra di Mister Farina che si mette definitivamente alle spalle un ottobre nero e ritrova i tre punti dopo cinque gare.